Nel 1848 l'Europa esploderà, letteralmente, sarà un susseguirsi di rivolte, di ribellioni, di vere e proprie guerre. L'importante però, al di là poi dell'elenco delle date, dei luoghi e delle vicende, è capire il perché. Come mai si è arrivati a questo punto? I grandi problemi che avevano determinato una simile situazione sono fondamentalmente tre e adesso li vediamo insieme. Primo problema. La conseguenza delle decisioni che erano state prese nel congresso di Vienna. L'abbiamo detto più volte, non si può cancellare con un colpo di spugna il pensiero liberale che era nato dopo la rivoluzione francese. La censura, il controllo anche effettuato da polizia ed esercito. Insomma, in generale, i limiti restrittivi cui era sottoposta la popolazione che aveva assaporato almeno un po' cosa significava libertà di parola, di pensiero, di giudizio, avevano creato in sofferenza, insoddisfazione e soprattutto un desiderio sempre crescente di opporsi a questa situazione e di volerla cambiare. Secondo motivo. Una crisi di sovrapproduzione, cioè una produzione eccessiva. Cos'era successo? Dopo la prima rivoluzione industriale c'era stato ovviamente un incremento della produzione, le fabbriche avevano creato prodotti anche a buon mercato, ma tutti questi prodotti a un certo punto avevano saturato il mercato, l'avevano completato. In questo caso si dice che la offerta era maggiore rispetto alla domanda. Quindi cosa succede? Succede che le merci rimangono invendute, vengono accatastate nei magazzini, le fabbriche sono costrette a sospendere la loro produzione, ma di conseguenza gli operai vengono lasciati a casa e perdono il lavoro. Terza motivazione. Questa che vedi nella fotografia è una foglia malata perché una malattia particolare ha intaccato la pianta. Si diffonde verso la metà dell'Ottocento, nelle campagne e soprattutto nelle campagne del centro e nord Europa, una malattia originata da un fungo che attaccava le patate, la peronospora. Interi raccolti di patate furono letteralmente buttate al macero. Ora se tu consideri che la patata era il prodotto base dell'alimentazione dei contadini, soprattutto dei contadini appunto del nord Europa, perché era il prodotto da una parte nutriente e dall'altra parte più a buon mercato che si poteva avere, questa malattia provocherà letteralmente delle carestie. La nazione più colpita sarà l'Irlanda, tant'è vero che tantissimi contadini, centinaia e centinaia, saranno costretti a lasciare il loro paese e emigreranno soprattutto verso gli Stati Uniti alla ricerca di una vita migliore. A Dublino c'è addirittura un insieme di statue che ricorda questo dramma. Allora ricapitoliamo, abbiamo detto tre grandi motivi. Primo i limiti e le restrizioni, secondo la crisi di sovrapproduzione, terzo la peronospora. In pratica questa crisi di metà ottocento coinvolge tutti, quasi tutti gli strati della società e cioè i borghesi, gli operai e i contadini. Se hai compreso la situazione, adesso ti sarà facile capire lo svolgersi degli avvenimenti. Guardiamoli insieme. Allora siamo nel 1848. Tutto inizia nel gennaio di quest'anno. Dei liberali siciliani riescono a coinvolgere masse di contadini che pur senza avere un obiettivo preciso, probabilmente non avevano neanche capito bene quello che stavano facendo, ma ottengono da Ferdinando di Borbone una costituzione. immediatamente dopo insorgono anche i napoletani che riescono ad ottenere lo stesso risultato. Febbraio, Parigi. A Parigi la situazione era drammatica già da più di un mese. I parigini manifestavano perché volevano il suffragio universale maschile. Per tutta risposta il re Luigi Filippo fa intervenire l'esercito. Morti, feriti, i rivoluzionari riescono a costringere il re ad abdicare e proclamano la seconda repubblica. Marzo. Vienna nel cuore dell'impero austriaco. I cittadini insorgono. Anche loro vogliono la costituzione. L'imperatore la concede e addirittura poi lascia il trono abdica e al suo posto sale al potere il nipote di soli 18 anni, Francesco Giuseppe. Sempre a marzo, poco dopo, Budapest. L'Ungheria si proclama indipendente dall'Austria. Tre giorni dopo, in Prussia, la popolazione chiede la costituzione ma anche l'unità della nazione tedesca. Cioè in pratica l'annessione di tutti gli staterelli tedeschi alla Prussia per formare un unico grande stato, non più sotto il governo dell'Austria. Aprile. Praga. La popolazione vuole più libertà per i cittadini di lingua slava. Come potrai notare stiamo parlando semplicemente di quattro mesi. In quattro mesi l'Europa è in completo subbuglio. Allora, ricapitoliamo in una tabella. Gennaio, Palermo e Napoli ottengono la costituzione. Febbraio, Parigi, addirittura viene proclamata la Repubblica. A marzo, Vienna, Budapest, Prussia. Anche qui costituzione, indipendenza, unità. E ad aprile, a Praga, la richiesta di maggiori libertà. Ma anche in Italia le cose precipiteranno. A parte che abbiamo visto prima che partono proprio dall'Italia, no? Palermo e Napoli. Altri sovrani però di stati importanti, spaventati, letteralmente spaventati da quello che stava succedendo intorno, decidono di giocare d'anticipo. Cioè concedere la costituzione prima che la popolazione organizzi delle ribellioni e delle rivolte. Per cui abbiamo il Papa, Pio IX, il Granduca di Toscana e anche il Re di Sardegna che appunto concederanno la costituzione. Di particolare importanza sarà proprio quella concessa dal Re Sabaudo, Carlo Alberto, che da lui prenderà il nome. Si chiamerà Statuto Albertino. Perché è così importante questa costituzione? Perché in pratica trasforma la monarchia Sabauda da una monarchia assoluta a una monarchia costituzionale e quindi garantisce ai sudditi il diritto alla libertà e il diritto all'uguaglianza. Ma non è finita qui. Spostiamoci a Venezia. Non appena a Venezia giunge la notizia che Vienna è in subbuglio, che a Vienna i cittadini si sono ribellati e stanno chiedendo la costituzione, addirittura l'imperatore ha abdicato a favore del nipote, la città insorge e riesce a scacciare il generale austriaco Radeschi, che è stato preso letteralmente alla sprovvista. E Venezia si proclama nuovamente Repubblica, come era sempre stata. E poi abbiamo Milano. A Milano, sempre in questi giorni di marzo, precisamente dal 18 al 23, ci sarà un'insurrezione che è passata alla storia col nome delle cinque giornate. Cos'è successo? Allora, a dire il vero, era già da tempo che Milano era sempre più insofferente nei confronti della dominazione austriaca. Tutto comincia con lo sciopero del fumo. Il tabacco e il gioco dell'otto erano un monopolio del governo austriaco. Questo che cosa significa? Che i sigari che venivano fumati allora dai milanesi si potevano acquistare solo tramite il monopolio austriaco e quindi tutti i soldi andavano direttamente all'Austria. A Capodanno, il primo dell'anno, il primo gennaio del 1848, i milanesi decidono di fare lo sciopero del fumo, cioè di non fumare più per non aumentare le entrate nelle casse dell'impero austriaco. Che cosa accade? Accade che invece i soldati austriaci che giravano per Milano ostentassero dei grossi sigari passando davanti ai milanesi, anzi addirittura ci sono documenti che attestano che i soldati avevano ricevuto proprio l'ordine di mettersi a fumare in pubblico davanti ai cittadini di Milano. Addirittura si vedevano dei soldati con due sigari per volta. Chiaramente questo provocherà tutta una serie di reazioni, ci saranno dei pestaggi, ci saranno anche dei morti per questa faccenda. Quindi tutto questo per spiegare che cosa? Per spiegare che il clima era già molto molto teso, molto sorriscaldato. Ovviamente col passare dei mesi, quando anche negli altri stati ci sono le ribellioni e soprattutto in Austria, i milanesi passano alle vie di fatto. Il 18 marzo cominciano quelle che sono le cinque giornate, cioè cinque giorni in cui i cittadini milanesi armandosi come riuscivano, riusciranno a scacciare l'esercito austriaco dalla città che all'inizio si era rifugiato al castello Sforzesco e poi successivamente se n'è proprio andato dalla città. Qui puoi notare una palla di cannone che si trova a Porta Romana con sotto una targa 20 marzo 1848 e un'altra cosa che voglio che tu noti è questa scritta. Ti ricordi abbiamo parlato prima del Papa Pio IX, cioè del Papa che aveva concesso la Costituzione e qui vedi proprio scritto Viva Pio IX. I combattimenti furono molto aspri, i milanesi costruirono delle barricate, le barricate sono questi blocchi, come puoi vedere portando mobili, tutto quello che trovavano per bloccare il passaggio delle truppe. Questo è un altro dipinto dell'epoca che fa vedere anche come tutti gli strati della popolazione, i borghesi più ricchi, i ragazzini, i più poveri partecipassero a questi combattimenti e guarda un po' qua di nuovo la scritta sul muro Viva Pio IX. Alla fine di queste cinque giornate che ancora oggi Milano ricorda tutti gli anni dal 18 al 23 marzo gli austriaci furono scacciati. Successivamente il 21 di marzo anche i cittadini poi di Modena e di Parma cacceranno i duchi dalle loro città. Qui in questa stampa che fa vedere appunto la cacciata degli austriaci puoi riconoscere l'insegna dell'impero austriaco e qui in alto il bicione simbolo della città di Milano. A Milano c'è una piazza, Piazza Cinque Giornate, che proprio ricorda questo avvenimento. In Piazza Cinque Giornate c'è un monumento che ricorda la battaglia combattuta dai milanesi. È un obelisco. Alla base di questo obelisco ci sono cinque figure femminili che rappresentano ciascuna una delle cinque giornate di Milano e il leone e l'aquila che simboleggiano proprio la battaglia combattuta dai milanesi contro gli austriaci.